Prima di chiudere voglio chiederti altre due domande, queste sono veloci. Da parte di Daniele, se sarò io uno del 144.000, come potrò capirlo? Da cosa me ne accorgerei? Grazie, vi amo. Ma se non l'hai capito ancora vuol dire che non lo sei, quindi non ti preoccupare troppo. Io penso che te ne accorgeresti, e non solo tu, ma se ne accorgerebbero, ce ne accorgeremmo tutti noi dai tuoi frutti, cioè senz'altro fareste come minimo le opere dei dodici apostoli e di più grandi anche. Guarda, io ti dico questo, Daniele... Ma questi frutti di fare come gli apostoli, quando cominceranno? Per sapere se uno è parte dei 144.000? Vai a Apocalisse, vuoi sapere l'orario preciso, Apocalisse 7, ti dà l'orario. Apocalisse 7? Sì, sintonizza l'orologio. Apocalisse 7 ti dà l'ora. Sì? Ci sei? Sì. Allora, leggi dall'inizio, qui c'è una profezia, ok, e vai avanti, leggi. Apocalisse 7, 1. Sì, vai. Dopo questo, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo... Noi sappiamo che il danneggiamento della terra e del mare, eccetera, comincerà nel capitolo seguente, ok, e che appunto è la grande tribolazione. Dicendo, non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio, e udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Capisci? Quindi cosa sta dicendo qui questo angelo? Che sono segnati questi proprio... alla fine. No, gli dici, al verso 2 gli dice di non danneggiare la terra e il mare, e poi verso 3, ok, dice fino a quando? Fino a che noi abbiamo segnato i 144.000, quindi questo ti dà l'orario... Quando saranno segnati? Di quando saranno segnati, cioè siccome sappiamo in base al capitolo seguente, sappiamo che... inizia la tribolazione, quindi l'angelo sta dicendo non far iniziare la tribolazione fino a quando che non abbiamo segnato i 144.000. Quindi cosa farà Dio? Tra quelli di noi, la sua chiesa del tempo della fine, che lui renderà degno, chi sono? Solo io lo sa, e lui li segnerà, sceglierà tra di noi i 144.000, perché guidino la chiesa mondiale, in un tempo quando non ci sarà, la radio per trasmettere, non ci sarà, non potrai andare a viaggiare in macchina, non potrai comprare il biglietto aereo per andare in Sud America, ci vorrà il macchio della bestia per andare in Sud America, a meno che non vai a nuoto, oppure, non so, ti nascondi su una nave, insomma, cose assolutamente eccezionali, no? Come fanno gli immigrati adesso che viaggiano nei cassoni dei camion e a volte arrivano morti. Quindi non potrai viaggiare, potrai andare alla stazione di benzina e dire, fai il pieno, dici, sì, fammi vedere il tuo marchio prima. Sai che adesso vai con la credit card e tu metti nella macchinetta, tu dai la mano, dai la mano, lui fa zip zap e ti controlla che c'è il marchio. Capisci? Quindi in quel tempo quando ci vorrà il marchio della bestia, anche per andare al gabinetto, sai che ci sono dei gabinetti, dei cessi che per andare devi pagare, devi pagare. Ti ricordi, eravamo in Germania, per andare al gabinetto c'era il passaggio a livello? Sì. Ti ricordi, il passaggio a livello che devi mettere il biglietto dentro, se no non potevi andare al gabinetto. Quindi il tedesco lascia fare a loro per l'organizzazione Auschwitz. E allora noi andavamo dietro gli alberi, chi è che ha già soldi da spendere? E' molto spirituale, nessuna credebbe altra. Allora, sentiamo. In quale bagno andava Gesù sul monte degli olivi? Oh, ma fratello Giuseppe non mi sembra molto spirituale. Senti, posso cambiare soggetto? Allora, risposta per Daniele. Non possiamo sapere se siamo uno dei 144.000 là, finché siamo segnati, e questo succederà prima della tribolazione. Quindi adesso non si può sapere. Ehi, guarda, quando tu ricevi lo Spirito Santo, il battesimo, senti la differenza, no? Sì. Quando ricevi Gesù, senti la differenza. Sì. Quando sei guarito, senti la differenza. Sì. Ti pare che questi 144.000 sono così imbranati che non hanno ancora capito che sono loro? Uh-huh. I dodici discepoli sapevano che erano i dodici? Sì, la risposta è sì, diti sì, Angelo. Sì. Oggi, oggi sei. Lo sto pensando. Ma tu perché la fai stamattina? No. I dodici discepoli sapevano che erano i discepoli di Gesù. Certo. I settantidi lo sapevano. Certo, sì. E lo sapremo anche quelli di noi. Sì, ma la domanda è quando lo sapremo? E abbiamo letto l'Apocalisse. E oggi non si può sapere. E dovresti ricevere una profezia, una rivelazione. Ok. Un fratello ci ha scritto, fa, sarò io forse uno dei due testimoni di Apocalisse 11? E questo qui, se tu lo sai, lo sai, dovresti saperlo. Sì, sì, sì. Elia sapeva che era Elia grande profeta, se no non poteva chiamare fuoco dal cielo. Uh-huh. Dice, se io sono profeta di Dio, ha detto, secondo re, capitolo 1, se sono profeta di Dio, scenda fuoco dal cielo e vi bruci. Sceso fuoco dal cielo, ha bruciato i 51 soldati. Ok, ma tu non credi che questi 144.000 sono persone che si devono addestrare adesso? E cominciare a fare servizi per il Signore. Non è che ricevono, prima della tribolazione, una potenza così sovranaturale e cominciano a servire il Signore. Sono persone che già sono attivi, che già sono in servizio, no? Guarda, Giovanni 14, 23. Questa è la scrittura che ti dà la risposta. Giovanni 14, 23. Gesù gli rispose, Quindi se tu osservi la sua parola con tutto il cuore, il Signore sceglierà 144.000, tra quelli che sono a cuore pieno, mente piena, anima piena, E ci danno da fare, insomma, al 100% per Gesù, il massimo che possono, sceglierà non 12, ma 144.000, li segnerà e questi riceveranno una potenza. Faranno cose, per esempio, io vai a Apocalisse 11, faranno cose, insomma, cammineranno sull'acqua, al bisogno. Devono passare una frontiera, non gli serve marchio della bestia, perché loro schioccano le dita, avremo modo di dire, E la polizia diventa cieca, non vede. Eliseo, in secondo re, capitolo 6, ha accecato un esercito di siri. In Genesi 19, gli angeli hanno accecato i sodomiti che li volevano violentare. Quindi 144.000 faranno cose così. Per esempio, io vedo in Apocalisse 11 due testimoni che secondo me sono i leader di questi 144.000, ok? Quindi dovrebbero essere 139.998, perché due sono a Gerusalemme a fare questi segni prodigiosi, e così credo io. Leggi versi 5 e 6. Apocalisse 11, 5 e 6. Parla di due profeti che contrasteranno l'anticristo affinché non distrugga tutti e tutti i cristiani, compresi la donna. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello. Quante volte vorranno? Anche verso 7 dice che alla fine della predicazione moriranno come martiri. Molti dei 144.000 moriranno come martiri. Leggi verso 7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, dopo tre anni e mezzo, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li ucciderà e li vincerà. Quindi questo succederà alla fine della tribolazione, vedi, verso 2-3. Dopo tre anni e mezzo, loro saranno uccisi, questi due. E con loro anche molti di 144.000. Morire per Gesù è un onore. Fratello Giuseppe, tu sei pronto a morire adesso? No, perché non è il momento. Dio mi darà la forza al momento. Dio non fa pagamenti anticipati, tranne la salvezza. Allora, è tutto chiaro, chiarito, chiarissimo, limpido? Sì. Allora, caro fratello, come si chiama? Daniele. Cos'è che dice lui? Ripete la domanda? Se sarò io una dei 144.000, come potrò capirlo? Da cosa me ne accorgerei? Beh, come una donna, tu, Angela, se tu fossi incinta, te ne accorgeresti? Eh, come no? Certo, e non solo io, anche gli altri. Angela, quando tu hai ricevuto Gesù, te ne sei accorta? Sì. Quando hai ricevuto lo battimento del Spirito Santo, te ne sei accorta? Sì. È stata un'esperienza unica o separata per te? Separata. Ok. Dopo quanto tempo hai ricevuto il Spirito Santo? Io credo che l'ho ricevuto quando ho cominciato a evangelizzare, perché quando ho cominciato a parlare a altre persone di Gesù, ho cominciato a sentire un cambiamento dentro. Quindi non è stata una preghiera speciale? No, no, no. Non è stata una preghiera, una esperienza. Boom! Ho ricevuto lo Spirito, adesso mi sento diversa. Ma mentre evangelizzavo, ho sentito dentro di me che sono diversa, non sono la stessa persona. Quindi non è stato il fratello Giuseppe che si è avvicinato, ecco, il profeta si avvicina, fra poco ti tocca sulla fronte e tu salterai su come una molla. Non è stato così. No, no, no. Quindi cosa hai fatto in poche parole? Dillo che i fratelli ci chiedono, ci sono fratelli che pregono il Spirito Santo da anni, ancora non ce l'hanno, io penso che sono interessati. Allora, ho ricevuto Gesù in una sera quando voi avete fatto un teatrino in un luogo di disastro dove andavo sempre con i miei amici. Era un posto, si chiamava Music Pub, no? Music Pub. Sì, dove andavano tutti gli universitari lì. Tutti i rocker, i hippie. A parlare di tutto. Tutti i disgraziati. A fumare marijuana, bere birra. E tu eri uno di questi bravi ragazzi. Sì, ero lì con un altro amico. Una ragazza squinternata, una giovane di 20 anni, avevi 20 anni? Sì, 19. 19 anni avevi. Mi ricordo una faccia di pecorella, tutta monella. Eccomi qui. Ah sì? Ok. E quindi... Beh, sei ancora monella. Ah, ok. Mi ricordo che non volevo ascoltare a nessuno che mi parlava di Gesù perché non sopportavo le religioni. e quindi quando mi davano per le strade volantini, li prendevo, li leggevo e anche li tenevo nella tasca per leggerli più tardi di nuovo. Li mettevi da parte. Li mettevo da parte. Quindi mi interessava il messaggio, però non volevo ascoltare nessuno. E quando avete fatto questo teatro in Music Pub, mi ricordo che mi sembrava che la storia della mia vita, che era sul palco scenico, la storia di una ragazza che sta cercando soddisfazione, felicità nelle cose che vengono nella vita, nella diploma, in un ragazzo, nei soldi, nella bellezza, tutte le cose che ti sono offerte nel mondo. La ragazza era una sorella americana. Sì, quella che attuava. Quella che attuava, sì. Sì. Ad un certo punto questa ragazza che sta vivendo diverse esperienze vive anche l'esperienza della stregoneria. Diventa stregona e comincia a ingannare la gente dicendo vieni da me, vieni da me perché io ti do la felicità, io ti rispondo a tutte le tue domande. Io che avevo tante domande. Sì, c'era un mucchio di gente, tutti giovani, arrivati davanti al palco scenico a guardare. A un certo punto una ragazza dal gruppo si alza in piedi, entra nel palco scenico e si fa sedere davanti alla strega, con la sorella e si siede e Dora viene a me dice Giuseppe, guarda, c'è questa ragazza che è entrata nella scena nel palco scenico, dirgli che se ne va. Dio, no, no, guarda, quella sorella mi sembra, quella ragazza mi sembra nello spirito, lasciala lì che sta coadiuvando tutto per bene, anzi, guarda, e quella ragazza eri tu. Perché mi sembrava che parlava a me. Era questa strega, tra virgolette, sul palco scenico che diceva, vieni, ti leggo il futuro, ti do le risposte, tutto quello che vuoi ti offro. Ho detto, vado, va bene, è un teatro, lo so, però vado. Ed è stato il tuo inizio di discepola. E sono entrata sul parco scenico e mi sono messa vicino la strega. Ti sei seduta, mi ricordo, sul pavimento del parco scenico. Gli ho dato la mia mano per leggermi la mano. E così lei ha continuato a improvvisare qualcosa nel teatro, così al momento. Sì, ha cercato di assecondare lo scritto del teatro con il testo, con questo fattore nuovo. Infatti lei mi guardava, io ero un po' il direttore fuori dal palco scenico, mi guardava e io gli dicevo vai avanti, vai avanti. E allora lei ha improvvisato anche lei. E mi ha detto in inglese, mi ha detto sussurrando imitami, imitami. Ho cominciato anche io a fare queste... imitami. ...queste cose di strega, come che mi interessa, come che mi sono persa nella bugia della stregoneria. Ti ha detto fai quello che faccio. E poi a un certo punto, a un certo punto mi dice ok, adesso puoi andartene. Adesso puoi andare via. Sì, perché cambiava la scena e tu non la sapevi. Sì, e così sono andata via. Mi si è alzata e si è tornata al tuo posto. Sono tornata dal pubblico. Sì, mi ricordo. E ho pensato ma non è successo niente. È solo un teatro. Alla fine del teatro che è successo? Alla fine del teatro tutti gli attori che, tra l'altro, erano i missionari che erano con te, tutti sono venuti, tutti intorno a me. E mi sono spaventata. Oh no, mi riproveranno. Io ho detto ai ragazzi, non fatela scappare quella lì, eh. Tutti intorno a me. Ho pensato, adesso mi danno dei rimproveri perché ho distrutto il teatro. Ho rovinato la scena. Ma no, loro cercavano di fare amicizia. Cercavano di parlarmi di Gesù, di vedere come possono aiutarmi. E mi hanno parlato al cuore. Proprio interessati dalla mia persona. Ero un po' scioccata perché non ero abituata nel mondo all'amore. Non sei abituata a gente che veramente si interessa di te. Che ti abbraccia, di tutto l'amore. E adesso ho pensato, ma a questi non possono essere sinceri. Non può essere vero. C'è qualcosa dietro. Non può essere vero che mi amano, neanche mi conoscono. Dicono che l'amore è di Gesù, ma chi è Gesù? Io non credo in Gesù, non lo so chi è Gesù. E poi sei venuto... E poi eri scioccata e confusa, smarrita, non sapevi cosa fare. E poi sei venuto tu con Deborah. Abbiamo preso un'altra stanza, non proprio lì dove c'era il parco, con il pubblico. Ci siamo andati indietro in questo pub, dove era una stanza privata. E mi avete parlato di Gesù. Mi avete evangelizzato per mezz'ora, per un tempo più lungo. E alla fine mi avete chiesto se voglio pregare e ricevere Gesù nel mio cuore. Io ho detto sì. Ho detto sì, avete pregato con me. Mi ricordo che hai pregato meravigliosamente una fecorella e sei nata di nuovo. Avete pregato con me, mi avete invitato ad incontrarci di nuovo, alle riunioni che facevamo, che facevate voi. Io ho detto sì, si vuole incontrarvi di nuovo, vuole sapere di più. E poi è successo che proprio dopo questo incontro, il primo, ci siamo persi i contatti. Sì, perché il diavolo ci ha combattuto e abbiamo perso il tenuto di talento. Dora ha perso il mio e io ho perso il suo. È incredibile, cioè è un attacco del diavolo duplice. E per un mese intero non abbiamo potuto comunicare. Io ho provato, ho provato, non potevo trovarvi. E voi, neanche me. Però poi è venuto quel ragazzo che era con me, in Music Pub, che è l'amico. La tua specie di fidanzato? No, non era un fidanzato. E poi ti seguiva Sebra, tutti i giorni. Sì, e quello ha detto che guarda che ho incontrato quell'altra missionaria sulla strada mentre evangelizzava e ho preso il suo numero. E così mi ha dato il numero e vi ho chiamati. E ci siamo venuti di corsa. Sì. Gloria a Dio. E poi è stato così. Da quel momento non ci siamo più separati. Ho cominciato ad andare a evangelizzare con voi. Venivi tutti i giorni. Tutti i giorni, sì. E immediatamente... Non capivo niente, sinceramente. Non capivo molto, ma mi piaceva. Vedevo l'amore, vedevo la luce di Gesù. E sentivo nel mio cuore che anche io voglio questo tipo di vita. Anche se non capivo molto. Questo amore. Questo amore. Ho cominciato ad evangelizzare e mentre l'evangelizzazione ho ricevuto lo Spirito Santo. Quindi, cominciato ad evangelizzare. Senza sapere niente. Questo voglio dire ai fratelli. I fratelli che siete disperati, che molti anni che pregate lo Spirito Santo, non lo riceverete sedendovi nelle chiese. Ma come ha fatto Angela. Angela è andata a evangelizzare, evangelizzare, evangelizzare e Angela tu neanche ti ricordi quando l'hai ricevuto. Mi sono accorto mentre parlavo con una ragazza che la evangelizzavo, mi sono accorto che sto dicendo delle cose che io non sapevo. Che non sapevi. Che io stessa non sapevo. E mi sono accorto, ma questo non sono io. È lo Spirito. Ma guarda, a me mi capita ogni volta che parlo, che evangelizzo. Mi capita alla radio ogni volta. Senza eccezioni. Dico un sacco di cose che io non sapevo e che è la prima volta che le ascolto. È lo Spirito Santo che prende possesso di te. E tu diventi un veicolo. Le sue mani, i suoi piedi, la sua bocca. Questo si chiama possessione dello Spirito Santo. Gloria a Dio. È una possessione che raccomanda a tutti. È quella positiva. Amen. Amen. Dobbiamo chiudere, Giuseppe. Dobbiamo chiudere, che peccato. Posso chiederti un'ultima domanda? Questa è molto veloce. Dobbiamo chiudere, che peccato. Dobbiamo chiudere, che peccato.